Bentornati con le consuete previsioni a cura di MeteoOne. L'anticiclone tenderà a spostarsi sul comparto europeo nord-occidentale, inglobando anche il nord Italia. Il centro-sud invece rimarrà scoperto e sarà interessato da una saccatura fredda in quota che permetterà lo sviluppo di temporali durante le ore pomeridiane. Avremo più fresco e le temperature caleranno. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per martedì 16 maggio. Al mattino cieli limpidi quasi ovunque, bellature sulla Lucania e sul Salento. Già dalla tarda mattinata assisteremo allo sviluppo di temporali sui rilievi del Potentino e Materano, con rischio di forti rovesci o possibili grandinate. Altrove i cieli rimarranno sereni o poco nuvolosi, cesseranno le piogge sulla Basilicata e tornerà il sereno quasi ovunque. Temperature massime, come notiamo dalla grafica, in leggera diminuzione. Venti di moderata intensità e da quadranti settentrionali, specie sulle coste pugliesi, adriatiche e nell'entroterra. E per quanto riguarda i mari, mossolo adriatico e poco mossolo ionio. Per il nostro consueto appuntamento con la foto del giorno, oggi ringraziamo Luigi Marzo per aver immortalato tutta la forza del mare durante la mareggiata abbattutasi su Gallipoli nei giorni scorsi, a causa dei forti venti di Scirocco. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattateci all'email che vedete in sovraimpressione e al numero Whatsapp. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.